Oltre agli interventi agli impianti sportivi e la riqualificazione della Goitese, in programma per il Comune di Goito ci sono altri lavori. Per quest'anno abbiamo in programma altri lavori, soprattutto la riqualificazione delle strade interne del nostro territorio, faremo un impegno di circa 300.000 euro, puntiamo molto la riqualificazione degli edifici scolastici, dobbiamo fare degli interventi di manutenzione importante, sistemazione degli impianti, dobbiamo fare delle sistemazioni di adeguamento delle strutture, ma soprattutto anche dei adeguamenti sismici molto importanti nelle varie scuole, abbiamo fatto fare degli studi e dovremmo intervenire. Molti gli interventi in programma anche per quanto riguarda le frazioni. Solarolo, Ceralongo, Marsiletti e Sacca, ma soprattutto dovremo mettere in mano l'intervento che abbiamo già iniziato e dovremo continuare anche di riqualificazione, soprattutto dei tetti per quanto riguarda le guagni dei nostri cemiteri. Goito è già stato fatto, adesso dovremo passare a Ceralongo, Solarolo e Vasto.